ciao amiche oggi voglio parlarvi della macchina tagli e cuci è uno strumento che può essere veramente utile soprattutto per la finitura e per il cuscito sartoriale vi faccio un esempio quando noi acquistiamo una maglia un pantalone o qualsiasi diciamo indumento fabbricato a livello industriale vediamo che ha questo tipo di finitura vedete questo è un abito all'interno si presenta in questo modo quindi viene ben rifinito pulito il tessuto non sfilaccia e così via vi faccio vedere da vicino come questo punto e vedete che è un punto come se fosse rimagliato in qualche modo ok adesso vi faccio vedere in dettaglio che tipo di punto è questo questo è uno dei punti che si può fare con la macchina tagli e cuci perché poi oltre alla finitura ecco anche questa maglia qui che è di jersey di cotone vedete o di maglina di cotone diciamo così è rifinita in questo modo ma anche le maglie molto più pesanti queste qua questa è una maglia invernale se prendete un pantalone all'interno a questo tipo di finitura la macchina da cucire normale immaginiamo di impostare un punto dritto fa proprio un punto che è fatto in questo modo ok tutta una serie di punti in questo invece la macchina tagli e cuci oltre a questo punto fa una se una sorta di onda così che rimaglia fino al bordo qui c'è una lama che taglia e questa cucitura questo lo vediamo sulla parte alta sulla parte bassa succede la stessa cosa ecco qui qui l'ho fatto su questo questa base bianca il filo rosa è il punto dritto che fa la macchina dagli e cuci questo viola è un filo che va praticamente vedete vada da questo punto fino al bordo e ritorna perché fa così perché sulla zona in basso il filo è un altro filo quindi non vada qui fino alla dall'altra parte ma fino al bordo e da questo punto fino a questo c'è un altro filo quindi potete ben capire che se utilizzate anche un solo ago voi avete tre fili questo rosa questo viola e questo qui beige o bianco che vedete sul retro quindi è un pochino più articolata rispetto alla macchina da cucire tradizionale oggi vi faccio vedere solamente diciamo in generale questo tipo di finitura che fa la macchina dagli e cuci e vi anticipo che per avere una cucitura ben fatta precisa con la macchina dagli e cuci proprio questo filo beige che vedete qui deve finire sul bordo dove inizia questo qui viola quindi questa maglia che fa una sorta di di onda sulla parte alta e anche sulla parte bassa si devono incontrare proprio qui sul bordo questa qui è una macchina tagli e cuci diciamo domestica sono quasi si sono tutte molto simili fra di loro quindi le cose che vi dirò sono di carattere generale innanzitutto c'è questa levetta che ci consente di alzare il piedino soprattutto quando abbiamo a che fare con i tessuti pesanti ma se ne abbiamo necessità possiamo alzarlo anche così a mano senza problemi per invogliare il tessuto qui sotto qui a fianco al piedino c'è praticamente una lama che può anche essere diciamo eliminata però noi la possiamo tranquillamente ecco si può togliere la lama e quindi fare dei punti che non sono cioè non utilizzarla come tagli e cuci ma per fare delle cuciture particolari anche delle finiture che però non richiedono intervento proprio della lama selezionata questo quindi taglia e cuce il tessuto e poi qui in alto troviamo praticamente le tensioni dei quattro fili in realtà è possibile utilizzare tre oppure quattro fili perché perché sostanzialmente già quando infiliamo la macchina come minimo ne infiliamo tre di fili poi vediamo quali sono sono in particolare quello che fa la cucitura con il punto dritto questo che fa questa sorta di maglia in alto e la maglia in basso quindi come minimo abbiamo tre fili nel caso in cui montiamo anche l'altro ago accanto a questo punto dritto si formerà un altro punto dritto quindi in alcuni casi può essere questo può essere solo per rifinire il bordo in quel caso può essere per unire due tessuti quindi facciamo una doppia cucitura e in più rifinire quindi con un'unica passata facciamo tutte e due le operazioni in quel caso oltre a questo ago andrà montato anche un altro ago sul laterale della macchina ci sono il volantino che abbiamo visto che quella che solleva il nostro lago e lo abbassa manualmente e poi abbiamo queste due manopole queste due manopole che sono presente poi su tutte le macchine ecco perché ve le sto menzionando e vi faccio vedere sul retro ci sono questi tre rocchetti o quattro e questo qui però vi faccio notare che l'ho solo poggiato quindi c'è la possibilità di utilizzare tre o quattro rocchetti destra è quello un pochino più articolato da infilare perché l'altro è molto più semplice e il terzo è quello che va nell'ago quindi all'infilatura come si fa per la macchina da cucire cioè passa qui sopra e poi passa attraverso lago semplicemente quindi il filo che diciamo comporta un pochino più di difficoltà di infilare è proprio il primo e bisogna seguire tutto il percorso indicato proprio qui nelle macchine in genere c'è tutto il percorso indicato bisogna seguire quello lì il secondo è più facile come vi ripeto il terzo passa semplicemente qui passa attraverso lago se utilizziamo anche l'altro ago questo filo ovviamente si infila nell'altro ago quindi tutto abbastanza mi sembra tutto abbastanza chiaro vediamo queste due manopolette che nella macchina da cucire tradizionali non sono presenti guardate bene i simboletti il primo che c'è la freccia per ruotare vedete anche questo simbolo qua ok questo simbolo che vi fa capire che il punto può essere più fitto o meno fitto e qui se lo giriamo vedete che ci sono dei numeretti questa qui è la lunghezza del punto quindi si richiama a quelle che sono le logiche della macchina da cucire punto dritto di base più lungo più corto cioè semplicemente come succede per la macchina da cucire partiamo da un punto più lungo uno più corto è evidente che se questo punto è più corto ci saranno più è più fitto poi alla fine anche questo questa catena che si crea attorno se invece questi punti sono più lunghi è più rado e infatti questo simboletto vedete vi fa capire che se sono più stretti punti viene più fitto poi tutta questa maglia oppure viene più lungo quindi questo qui si riferisce proprio agli aghi quindi andiamo a regolare la lunghezza del punto del lago cioè questa cucitura qui dritta questa che io ho fatto con il filo in rosa quindi si riferisce a questo filo in rosa ed è quello che va proprio sugli aghi o qua non so se si vede bene quale lunghezza si deve utilizzare la lunghezza dipende dal tipo di tessuto che noi stiamo lavorando perché con la macchina dagli cuci possiamo lavorare dagli chiffon alle alle lane ok ai tessuti molto più pesanti quindi possiamo utilizzare una lunghezza che partiamo da 3 e la regoliamo con una lunghezza inferiore se stiamo parlando di un tessuto più leggero ed una lunghezza maggiore se il tessuto invece molto più pesante ok però in generale ci regoliamo su tre quest'altro tasto qui invece guardate questo simboletto si chiama differenziale la macchina dagli cuci rispetto alla macchina da cucire tradizionale ha proprio questa funzione cioè vi consente di avere una un trasporto differenziato qui sulle lamelle qui se guardate sulle lamelle possiamo avere un rapporto differenziale che cosa significa quello che succede con la macchina con l'automobile quando noi andiamo in curva ci sono delle ruote che ruotano di più e quelle che ruotano di meno ricordatevi questo particolare perché in realtà questo qui vi consente questa funzione di fare degli effetti particolari sul bordo se vogliamo fare questo tipo di finitura non va impostato il differenziale ma si imposta in maniera normale si imposta il differenziale quando noi vogliamo fare degli effetti di onda sul bordo quindi sono delle finiture un pochino particolari anche di finitura diciamo così quindi se non vogliamo creare nessun effetto particolare ma vogliamo semplicemente uscire oppure vogliamo rifinire un bordo ci mettiamo con il differenziale su uno che significa non creare una differenza di trasporto la differenza di trasporto come vi ripeto serve per fare degli effetti particolari poi casomai ve lo spiegherò in un'altra occasione concentriamoci adesso su quelle che sono le tensioni del filo allora come tutte le cusciture vanno vanno regolate le tensioni in questo caso ne regoliamo tre al limite anche quattro perché se utilizziamo i due aghi dobbiamo regolare tutti e due gli aghi però come minimo ne regoliamo tre quello che vi voglio far notare che il primo filo che questo qui chiaro è quello che andrà sul retro il secondo filo che questo qui viola è quello che fa l'effetto l'onda sul davanti quindi la prima onda sul retro è questa la onda sul davanti è questa e il filo in rosa che il terzo filo è quello che invece mi fa il punto dritto per capirci con il primo ago se infilo anche il secondo ago vedrò un'altra cucitura qui parallela allora la cucitura con il filo viola quindi il secondo ed il primo devono creare questa sorta di onda il primo la fa sul retro il secondo filo la fa sul davanti si devono incontrare proprio su questo bordo qua se uno dei due va troppo in avanti o troppo indietro vanno regolate le tensioni ok se uno di questi la stessa cosa per il punto dritto deve essere ben sistemato altrimenti è necessario un altro consiglio che vi voglio dare quando noi regoliamo le tensioni regoliamone una per volta non spostiamo tutte le tensioni insieme perché poi è difficilissimo da regolare è un'altra cosa che si deve sempre fare almeno come faccio io metto sempre su tre tutte qua allora l'impostazione laterale già l'abbiamo viste metto tutte le tensioni su tre e faccio una cucitura di prova su questo tessuto e vado a guardare se risponde alle caratteristiche che io vi ho detto inizia a cucire il diciamo il progettino che ho in mente di fare altrimenti vado a regolare in che modo se questa qui viola va anche sul retro devo aumentare la tensione quale aumenterò questa sul davanti è il secondo tasto a partire da destra quindi a partire da destra mi metto sul secondo tasto e aumento la tensione aumentatela sempre gradualmente senza insomma creare non passiamo da tre a sette insomma va bene passiamo da tre a quattro e facciamo comunque un'altra prova il terzo qui che vediamo fila è il filo dritto se invece è il filo bianco che passa sul davanti vorrà dire che devo aumentare questo ha impostato la macchina in modo standard differenziale 1 lunghezza del punto 3 tutte le tensioni para 3 e vado a fare la prima prova sul diciamo su questo tessuto adesso lo faccio questo bianco e vi faccio vedere quando arrivate alla fine continuate a peggiare in modo tale che questa catena continua e non la dovete tirare assolutamente ma dovete semplicemente tagliare questo è il risultato della cucitura guardate io qua noto che qui in basso il filo rosa che poi è il filo il terzo quindi è quello che entra nel lago è un pochino lento quindi devo aumentare la tensione del filo sicuramente perché vedete è proprio lento si vede si vede quindi adesso all aumento a 4 quindi la regolo una per volta e procedo quando voglio togliere faccio così continuo e quindi guardate adesso la cucitura secondo me è perfetta adesso vi faccio vedere se aumento o diminuisco la lunghezza del punto in particolare se io porto la lunghezza a 4 quindi questa è lunghezza del punto 3 tutte le altre caratteristiche rimangono uguali inserisco sempre senza tirare arrivo alla fine e taglio ecco qui la differenza questo punto è più lungo ecco ve li metto a confronto questo è più piccolo e questo è il punto 3 e questo è il punto 4 quindi un pochino più lungo su questo lato qui possiamo fare per esempio il punto 2 quindi confrontiamo il punto 2 ora sto cambiando solo ed esclusivamente ecco qui su un lato c'è il punto 2 su questo lato c'è il punto 4 vedete molto più lento molto più fitto però tutti e due fatti per bene mi limito a parlarvi in generale della macchina dagli cuci e di come regolare le tensioni e queste altre due manopoli che trovate sul lato quindi è il primo approccio che c'è con la macchina dagli cuci come la macchina tradizionale dovete curare diciamo la pulizia quindi mettere a portata di mano della macchina uno di questi pennelli qui che si usano per il trucco caso mai non avete utilizzato per il trucco e togliete sempre tutti i pelucchi e cose varie e ricordatevi che la macchina dagli cuci non la dovete infilare ogni volta e stare lì a perdere diciamo mezza giornata fra virgolette ma potete semplicemente unire il filo che dovete unire qui se volete cambiare per esempio questo filo ecco ve lo faccio vedere subito come si fa immaginiamo di voler togliere questo filo qui viola che voglio togliere questo filo viola per utilizzarlo ecco tagliatelo qui togliete questo occhetto vale per tutti quanti e mettiamo l'altro colore prendiamo questo capo e facciamo un nodino ecco faccio un nodino ecco qua e poi inizia a lavorare con la macchina in modo tale che tira dentro questo filo guardate inizia ad entrare non so se si per eccolo sta qui inizia ad entrare non vi preoccupate ecco qui vi faccio vedere come la cucitura è cambiata necessità di infilare di nuovo la macchina vedete sono passata dal filo viola che avevo messo fino ecco qua addirittura si percepisce il nodino fino al filo beige che ho appena montato quindi quando dovete cambiare i rocchetti non dovete rinfilare tutta la macchina tranne casi eccezionali per quei casi lì vedete il percorso e come vi ripeto solo il primo solo il primo rocchetto un pochino più complicato perché deve passare nelle varie nelle varie diciamo nel percorso un pochino più articolato per il resto veramente è facile da fare niente spero che questo breve video vi sia stato utile se vi è stato utile mi raccomando lasciatemi un bel like condividete questo video iscrivetevi al canale perché sul canale trovate tanti progetti di cuscito creativo insomma a diversi livelli molti sono veramente facili e tutti possono diciamo avvicinarsi quindi al mondo del cuscito creativo che vi garantisco che è un mondo meraviglioso amiche io vi saluto vi abbraccio e vi invito a vedere il prossimo tutorial ciao a presto